Praticamente questa canzone parla di un rapporto sessuale che ha avuto con un spot di cantante e con una donna alpeggia, Rosy. Grazie a tutti. 4, 2, 3, 9, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 18, 19, 24, 16, 18, 19, 20, 20, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 22, 23, 23, 23, 23, 24, 22, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 25, 26, 28, 24, 22, 23, 24, 25, 26, quello che stavamo aiians. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!